Il 24 e 26 luglio prossimi anche in Abruzzo ci sarà lo sciopero generale dei trasporti con pesanti conseguenze e disagi per gli spostamenti di viaggiatori e pendolari. L'agitazione interesserà tutti i settori del trasporto locale, di quello ferroviario, delle autostrade, del trasporto merci, autonoleggio, ANAS e nella giornata del 26 luglio del trasporto aereo. Le ragioni dell'agitazione a cui aderiranno CGL, CISL e UIL sono state illustrate questa mattina dai rappresentanti dei tre sindacati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara. Questa è un'azione che nasce contro l'immobilismo del governo nazionale rispetto al tema dei trasporti e delle infrastrutture che insieme rappresentano il primo elemento di sviluppo per un territorio e per una società. Filti CGL, Filti CISL e UIL Trasporti intendono richiamare l'attenzione su questi temi che vanno dalla problematica delle infrastrutture carenti al sistema dei trasporti, alle regole, al diritto di sciopero. Basti pensare che si attenta addirittura al diritto ad essere in malattia, ad esempio per quanto riguarda i dipendenti del TPL attraverso un taglio di 58 milioni di euro come indennizzo per la malattia per il 2019-2020. Queste sono cose non accettabili. Sul fronte del trasporto ferroviario, dove noi siamo stati esclusi ormai da tantissimi anni dal sistema di alta velocità. Abbiamo delle penalizzazioni che attengono anche il sistema della viabilità con le situazioni che ben conosciamo che attengono lo stato delle infrastrutture, delle autostrade che collegano la regione Abruzzo alla regione Lazio. Noi abbiamo problemi di risorse per quanto concerne il governo nazionale, ma abbiamo anche problemi di risorse per quanto concerne il governo regionale che nel corso di questi anni ha sistematicamente tagliato, nonostante gli annunci che si fanno per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, poi si vanno a tagliare proprio le risorse del trasporto. Abbiamo dei deficit rispetto allo sviluppo delle infrastrutture stradali, rispetto alle infrastrutture ferroviarie. Verso Roma paghiamo uno scotto di una ferrovia che ormai risale a un secolo orsono. Abbiamo problemi con i porti, non abbiamo un porto efficiente ed efficace, sono tutti insabbiati e privi di relazioni commerciali importanti. Noi chiediamo al governo regionale del governatore Marsiglio di aprire immediatamente un confronto, l'abbiamo già richiesto e sollecitato, ci auguriamo che il più presto accada.